Buon venerdì a tutti. Per quanto riguarda il bando di ammissioni al Banco Alimentare, tutte le persone residenti nel Comune di Giuliano che devono fare domanda, oltre ai requisiti che già vi ho indicati precedentemente, avere un ISEE inferiore ai 5.000 euro, essere residenti nel Comune di Giuliano in Campania, non ricevere analogo sussidio, occorrono i seguenti documenti. Carta d'identità e codice fiscale del riccedente, certificato ISEE in corso di validità. Fotocopia di un documento d'identità della persona espressamente delegata dal riccedente al ritiro della fornitura alimentare, eventuali certificati attestanti, condizioni di disabilità ed infine eventuali contratti di fitto.